Ciao a tutti, bentornati su Rostecine e Kpop, io sono Giuna Io sono Obby, spaventata Ciao Allora, oggi reaction Stiamo per vedere Woods Come back di Woods Povero anch'io, però mi sembra di aver capito che è una cosa abbastanza soft Io non lo so perché ho visto solo, letteralmente, non ho visto nulla Solo, esclusamente, la copertina di questo video Un teaser mi sembra che l'ho visto O era un trailer, una di quelle cose concettuali Waiting di Woods Non aspettiamo più No, che ti vieni a aspettare Vado Però spero che sia poetica Non c'è capito Oh sì! Oh sì! Sì! Sto accettando Quando le chiamate è la tizia che non le paga Sì, è stavata Ebbene, faccio il suo numero Ah, non sto riferendo da Bellissimo! Che bello! Oh no! Oh no! Oh no! Che spavelli! No! Non piangere! Poi era fan, però era la lacrima No, prima mi sembrava È disperato Sì, è battito disperato Sì, è battito disperato È un bravo, che bello È un bravo, che bello C'è sempre lui Che è solo No, è la ragazza quella Lui è stato stato da terra si che è stato usato da terra, quella che stai seguendo ricordo potrebbe sempre essere lui che si sdoppia, ce la usa che bello ma questo è bello oh mio dio oddio 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 non esiste qualcosa di farlo più brutto tutti i capelli vabbè stupate ci vedeva, piuttivamente madonna no, che piucia compagnia che vuoi ma c'è una rossa ma lei l'ha sorda non capisco se lei è un po' proprio no, si la donna come faccio a pensare non è ancora il problema no, non capisco sto facendo delle facciole pipì no, non capisco non è proprio niente ma se va oddio no, non impazzire no, tranquillo no, non capisco non ce ne sono non ce ne sono dove va? non ce ne sono non ho capito un cavolo nemmeno io penso che gli abbia sparato lei secondo me gli ha sparato lui c'era le mani col sangue e la seguiva però perché lei però c'era un po' le scene di qui a terra col sangue in bocca quindi posso tipo due possibilità di scenario può essere ma secondo me lui era lo stalker e lei l'ha ucciso questa è la mia interpretazione cioè questa è la mia interpretazione ma quello fat the police cioè proprio a cosa servono le autorità esatto va bene madonna bellissima è troppo bella bellissima è una cosa inizia e ha una voce assurda e ha una voce che porca miseria voglio morire cioè se non l'avete sentito gli altri album andate a sentire su uno se vi piacciono le cose soft porno come le chiamiamo noi come me come me no no assurdo perché c'è un grande bravo soft porno però io sono sicura di sì un giorno lo scopriremo se per caso lo sapete aiutateci ma aiutateci anche psicologicamente perché è un problema aiuto vabbè raga chiudiamo qua andate a sentire le cose di Wulz se volete la morte o se volete aspettare va bene ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao